Ciao a tutti sono Sissi, bentornati sul mio canale per il repilogo recensione della 8x1 del trono di spade abbiamo finito con The Walking Dead e cominciamo con il trono di spade è la stagione conclusiva e io sono un po' triste ho sentimenti contrastanti perché sono super esaltata dall'inizio della stagione e sono triste nel contempo perché so che è la stagione conclusiva comunque non disperiamo perché molto probabilmente quando finirà l'ultima stagione questa del trono di spade probabilmente incomincerà qualche spin off quindi non ci abbandoneranno in quanto tempo lo faranno questo ancora non si sa i tempi sono lunghi però non disperiamo dunque prima puntata spettacolare anche se è stata una puntata insomma non è morto nessuno a parte il giovane quello della casata Umber però vabbè non sapevamo chi fosse non l'avevamo mai visto chi se ne frega dunque è stata una puntata un po' alla caramba che sorpresa perché ci sono state un sacco di reunion praticamente si sono ritrovati tutti ma proprio tutti tranne Theon che ancora non è arrivato a Grande Inverno però arriverà e niente quindi cominciamo a parlare di Grande Inverno dunque a Grande Inverno è arrivata tutta la carovana di Jon Snow con Daenerys con il mastino che dove l'hanno trovato non si sa io non mi ricordo che il mastino si era unito a loro però probabilmente in questi due anni di tempo che sono passati il mastino si è infilato nella processione di loro quindi arrivano loro arrivano i draghi arriva Verme Grigio con Missandi arrivano gli immacolati tutta questa carovana verso Grande Inverno e c'è l'incontro con Sansa c'è l'incontro con Sansa con Bran con quella faccia da culo di Bran che io non lo posso vedere quello spione stramaledetto e niente qui vediamo subito che Sansa non è molto contenta di Daenerys e Daenerys ha un atteggiamento come al solito sempre con la sua attitudine della serie sempre io sono la regina lei si deve inginocchiare mi deve riconoscere questo fatto di qua e di là mentre vediamo che comunque al nord c'è un po' di tensione perché comunque quando hanno scoperto che Jon Snow si è inginocchiato a lei quindi ha perso il titolo di re del nord loro se la sono un po' prese nel senso gli hanno detto eri un bastardo ti abbiamo fatto re del nord per proteggere il nord e tu adesso sei andato a toglierti il titolo per appoggiare questa qua che manco conosciamo va bene che a questi draghi tutti sono sconvolti da questi draghi però gli è passata ben presto subito la cosa e non riconoscono praticamente Daenerys Jon Snow continua in perterrito a dire guardate che questi stanno arrivando che infatti lo dice anche Bran quando lì ai convenevoli taglia tutto corto dicendo sì ok va bene ci siamo visti adesso è ora di prepararci perché la barriera è caduta i morti stanno arrivando il re della notte sta arrivando piantiamola di abbracciarci e parlare e facciamo qualcosa e dunque Jon Snow dice guardate che non è importante il titolo qua questi stanno arrivando io li ho combattuti e la cosa è molto seria noi non ce la faremmo senza l'appoggio di Daenerys e quindi niente quindi qua bisognerà anche vedere come andranno le cose tra Sansa e Daenerys perché Daenerys ha sempre questa attitudine io sono la regina vi dovete inginocchiare di qua di là se lei ha pure abbozzato una certa minaccia una minaccia velata Jon Snow dicendo sì ma lei lo deve riconoscere che io sono la regina perché se no e non ha finito la frase se no che cosa? l'ammazzi però attenzione che Sansa è venuta su con il metodo dito corto quindi io starei un po' attenta Sansa Sansa non l'hanno ancora sfruttata nel potenziale che potrebbero sfruttarla io la voglio in qualche intrigo Sansa poi c'è stata la riunione appunto di Sansa e Tyrion Tyrion che ci ha regalato delle perle in questo in questa puntata lui è molto sempre molto abbastanza fa delle battute molto belle mi piacciono sempre le sue linee di dialogo poi 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 ah poi c'è stato il tanto attesissimo incontro tra Arya e Jon Snow che Jon la rivede ancora come una bambina sì è un po' cresciuta però quando non sa non sa che cosa gli è successo non sa chi è diventata non sa il potenziale di Arya e quindi poi qui ci sarà una bella sorpresa probabilmente nelle prossime puntate e niente poi cosa succede a grande inverno succede che eh Jon Snow eh sale sul drago cavalca il drago con eh Daenerys anche qui poi c'è un un frame abbastanza che fa che fa ridere insomma ci fa sorridere perché poi loro si baciano così e c'è lì il drago che li guarda mi sembrava Cesare dico ai tempi quando ero fidanzata adesso sono tutta per lui però ai tempi Cesare era lì così come il drago rosso di Daenerys eh niente poi che succede che succede sì ci sono tante casate che stanno si stanno tirando indietro all'alleanza quindi anche qui le alleanze sono flebili diciamo così le alleanze sono flebili eh poi che cosa che altro succede a grande inverno che posso dire ah sì c'è la reunion di Aria e ehm il mastino e Gendry Gendry che Gendry Gendry come si chiama eh sì nella live sono andata avanti a dire Sauron al posto di Euron per tipo mezz'ora però non mi ricordo più un po' di nomi cioè mi vengono dopo perché è passato tanto tempo sono passati due anni praticamente e io ovviamente non mi sono fatta la maratona quindi eh va così sarò etichettata come la peggiore delle delle recensioni di del trono di spade la peggiore la peggiore youtuber che recensisce il trono di spade potrebbe essere per la mia incompetenza va bene comunque è sempre un piacere per me guardare il trono di spade e ci provo vabbè comunque sto dicendo la reunion con Aria e il mastino tanto attesa e Aria si becca pure della stronza perché il mastino gli dice guarda che mi hai lasciato lì a morire e Aria non se la prende nel senso anche lui se poi alla fine gli sorride è bella è stata una bella reunion la attendevamo da molto e Gendry che Gendry Gendry probabilmente la vede come nuovo interesse amoroso ci sarà sotto qualcosa io Aria la vedo sempre come una bimba Gendry Gendry lo vedo grande per lei non lo so però non lo so una coppia poco assortita diciamo io non ce li vedo bene insieme però potrebbe potrebbe succedere qualcosa se non muore nessuno dei due ma moriranno tutti probabilmente no incominciamo col toto morte dunque mi sembra che a grande inverno per grande inverno ho detto tutto e no che non ho detto tutto di grande inverno ma anche la cosa più importante la cosa principale il segreto di Jo Snow è fuori perché il nostro Sam gli ha rivelato da dove arriva chi è chi sono i suoi genitori partiamo dal principio Sam incontra Daenerys con il suo frenzonato Ser Jorah e vuole ringraziare Sam per aver curato Jorah insomma dalla dalla grayscale dal male grigio non so come lo chiamano in italiano dalla scabbia insomma tipo e quindi Daenerys gli rivela che ha ucciso suo padre e suo fratello io non mi ricordavo sinceramente non l'hanno fatto vedere nel recap all'inizio io non mi ricordavo avevo rimosso questa scena dove Daenerys uccide il padre e il fratello di Sam perché non si sono inginocchiati a lei ovviamente no e quindi Sam è molto sconvolto da questa cosa e decide di andare a parlare con Joe Snow anche gli ha dato il via libera a Bran gli dice è il momento devi andare a diglielo perciò va da John nella cripta dove è lì che lui sta guardando la statua di Ned di Ned Stark e gli dice la verità gli dice guarda che in realtà tua mamma è Lyanna Stark e tuo padre è il Targaryen non mi ricordo il nome quindi implicitamente ti stai facendo tua cugina e qui John Snow rimane rimane non lo so io mi aspettavo una reazione diversa rimane scioccato però rimane lì per dire e mo chi glielo dice a Daenerys questa cosa che io sono il legittimo erede insomma del trono di spade sono il legittimo re del trono di spade rimane lì è molto più preoccupato secondo me del fatto che glielo deve dire a Daenerys perché lui continua a dire no ma Daenerys è la nostra regina e lui dice no guarda che sei tu che devi andare sul trono di spade non è Daenerys che infatti qua praticamente rientra anche la cosa che lui sia andato sul drago perché sembrerebbe come se fosse stata Daenerys a dare l'ok a lui per salire sul drago quindi la mamma del drago ha fatto insomma capire al drago fallo salire però in realtà ce l'ha nel sangue quindi il drago probabilmente lo sa che lui è un Targaryen e quindi anche questa cosa della cavalcata sul drago prende un attimo un po' più senso e niente quindi adesso passiamo passiamo a parlare di approdo del re e pensando ovviamente fatemi sapere nei commenti che cosa potrebbe comportare questa cosa come potrebbe reagire Daenerys quando Jon gli dirà sai sono un Targaryen in realtà siamo cugini e devo andare io sul trono di spade non lo so come reagirà lei perché lei abbiamo visto che ha un po' un'attitudine da stronzetta possiamo dirlo così quindi non so io come reagirà Daenerys a questa a questa informazione fatemi sapere voi se avete qualche idea a riguardo e adesso passiamo a parlare di approdo del re prodo del re con la mia Sersi la mia Sersi lo sapete che a me piace Sersi dunque c'è il suo il suo braccio destro che gli dice non mi ricordo più il nome gli dice la barriera è caduta i morti stanno invadendo il nord e lei dice bene perché ricordiamoci che Sersi il suo piano ha detto sì a Tyrion che avrebbe mandato l'esercito che infatti pure lì Tyrion si è beccato dello stupido da Sansa perché gli dice ti immaginavo un po' più intelligente quando lui gli dice che sta arrivando l'esercito di Sersi perché non è così che infatti scopriamo un po' il piano di Sersi cioè lo scopriamo l'hanno fatto vedere nei titoli all'inizio nel recap dove c'è Sersi che parla penso col suo braccio destro e gli dice sì lasciamoli scannare poi lasciamo che i morti arrivino facciano un po' piazza pulita e poi arriviamo noi a mettere a posto la situazione e eliminiamo chi c'è da eliminare quindi questo è se non mi sbaglio se non ricordo male il piano di Sersi poi c'è l'incontro con Euron non Sauron come l'ho chiamato io con Euron che arriva con la sua flotta e insieme ha la compagnia dorata dunque vediamo che Euron ha ovviamente ancora in custodia Yara Greyjoy che viene poi liberata da Theon che arriva mentre Euron è in colloquio con Sersi in colloquio molto intimo con Sersi e quindi la libera e parlano e gli dice probabilmente Yara da quello che ho capito lei torna alle isole di ferro e dice devo ottenere il posto sicuro nel caso in cui Daenerys debba nascondersi in un posto andare in un posto dove i morti non possano arrivare che qui dici cavoli che bello speriamo cioè speriamo che si che si possa attuare questa cosa nel senso che magari in un momento di non so non voglio dire di crisi però in un momento nel quale lei si vede costretta a scappare scappi con il drago con i draghi sulle isole di ferro ci starebbe è un bello scenario per me ci sta e quindi Theon gli dice che lui vuole andare a combattere per gli Stark e quindi lui torna grande inverno e lei gli dà la sua approvazione dopo che gli ha tirato una bella testata anche qui ci sono stati tutti questi momenti che sono molto molto esilaranti diciamo ok e quindi niente quindi Theon vedremo la reunion di Theon con tutti gli altri vedremo come come si svolgerà perché comunque abbiamo visto che Theon gli aveva fatto un grande sgarro alla famiglia Stark anche se è riuscito a far scappare Sansa quindi probabilmente Sansa gli rimarrà per sempre grata Theon però vediamo con tutti gli altri come la prenderanno l'arrivo di Theon bene passiamo ad Euron che è con Cersei insomma Cersei fa un po' la preziosa poi si concede a a Euron e lui qua dice una cosa dopo che hanno avuto la loro intimità lui va gli dice gli tocca la pancia gli dice non vedo l'ora di mettere un erede qua dentro nella tua pancia e qui Cersei fa una faccia un mezzo sorriso chissà che cosa avrà in mente perché da quanto sappiamo noi lei è già incinta quindi io dall'idea che mi sono fatta potrebbe essere che lei faccia pensare poi tra un po' dica ad Euron che è incinta e che il bambino sia suo per rafforzare l'alleanza perché comunque abbiamo visto che Euron è uno un po' a me piace molto il suo personaggio devo dire la verità è un po' una testa calda nel senso va dove tira la bandiera perché anche quando Yara gli dice ti sei scelto i perdenti lui gli risponde vabbè chi se ne frega vorrà dire che porterò la mia flotta da un'altra parte quindi sembra uno che cambia molto bandierina lui aveva nella testa il fatto che voleva andare con Cersei ce l'ha fatta e quindi forse Cersei ha capito l'antifona e dice fammi legare questo qui con un figlio potrebbe essere e quindi niente quindi a Prodo del Re succede questa cosa e poi vediamo Bron che è ad a Prodo del Re quindi io non mi ricordavo che lui fosse rimasto ad a Prodo del Re sinceramente pensavo che seguisse Jaime che intanto è arrivato anche lui a a Grande Inverno io continuo a dimenticarmi le cose di Grande Inverno sono successe troppe cose in questo episodio quindi Jaime è arrivato a Grande Inverno che qui c'è stata un'occhiata di fuoco con Bran della serie Bran l'ha guardato come per dire io lo so che cosa hai fatto ti ho visto ti ho spiato vi ho spiato tutti quanti e Jaime l'ha guardato per dire oh mio Dio questo è ancora vivo vabbè dunque stavo dicendo Bronn è rimasto lì e Cersei ha mandato il suo braccio destro gli dice Cersei paga in anticipo sappiamo che sei un mercenario ci sono ceste ceste di oro per te se farai questa cosa gli dai in mano la balestra e gli dice i fratelli Lannister devono morire quelli che hanno tradito Cersei devono morire perché vediamo che sia Tyrion sia Jaime sono praticamente a Grande Inverno e non sono ad approdo del re con lei e quindi niente quindi Bronn probabilmente partirà per questa cosa farà la cosa farà quello che gli ha detto Cersei svolgerà l'ordine oppure farà la cosa giusta e non li ucciderà perché vediamo cioè comunque sappiamo che ha un bel rapporto con tutte e due ma Bronn è un mercenario quindi vediamo se prevarrà la sua fame di denaro o i suoi rapporti interpersonali insomma anche qua è tutto da vedere dunque a me mi sembra di avere detto veramente tutto non lo so non sono sicura perché veramente sono successe tantissime cose in questo episodio e sarà così lo so per il resto della stagione sarà così quindi sappiate che fare le recensioni e tirar fuori qualcosa dal trono di spade è molto difficile perché succedono sempre talmente tante cose però non disperate per me perché io ho la mia ossidiana anche se arriva il re della notte io rimarrò viva perché ho la mia ossidiana e potrò continuare a fare le mie recensioni questa me l'ha regalata John Snow lui direttamente prima che si mettesse con Denelis vecchia storia comunque va bene dai allora sentiamoci comunque come al solito nei commenti fatemi sapere di tutte le cose che vi ho chiesto insomma durante la recensione di cosa ne pensate della puntata se siete non incominciamo già col totomorte per favore non sono pronta per vedere morire la gente e niente quindi sentiamoci nei commenti ovviamente lasciatemi un like e iscrivetevi se non siete ancora iscritti perché abbiamo ancora tutta la stagione davanti io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima ciao ciao